Musica 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 Dovrei andare con lui? Ma certo Fantastico non riesco a cazzarmi se non ci sei tu Ultimamente ho battuto la fiacca ora devo impegnarmi il doppio E beh senza strafare eh però mi raccomando N-nonsuka sensei Per un attimo ho pensato che avessero chiamato tipo dall'ospedale e avessero detto delle nipote Ho pensato già subito malissimo B-bucato Non si va bene, vai! La scelta è la scelta! Non continuate! La scelta? E ora ci chiedono a noi qualcosa Quanto ci fai? 3,2,1 Vabbè mi tocca Sono diretto in infermiglia con Yuko Nonostante lui sia un po' così Ha detto una cosa giusta Per fortuna Cosa 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 Ti ho detto di no Ti ho detto di no Cosa Cosa Eh già Purtroppo Omertosi Omertosi Non so nulla Meglio rispondere comunque Vabbè Vabbè Almeno ha fatto la scelta giusta dai Sta cercando di proteggermi Sta cercando di proteggermi Sento che il nostro legame si sta rafforzando Beh una promessa è una promessa Però ragazzo Ha ragione l'infermieri Stai giocando col fuoco In questo caso un'infiammazione Ah ha detto tutto dai Eh dai Stato bravo Ah i ragazzi Oh Finalmente ha detto qualcosa di sensato sti due comparse Io capisco accettare la cosa però Eh beh certo Minna Ecco Hai Ho finito di allenarmi con gli altri E sono tornato al dormitorio Abbastanza veloce come confident comunque il suo Cioè Poche volte siamo stati tanto tempo A parlare Ehi sei tornato Esco per un po' Tornerò tardi Devo venire a controllare Ora che ci penso Quello che ho piantato sul tetto Dovrebbe essere pronto Fuca Andiamo su Ed ecco qua i nostri pomaroli Vediamo che effetto hanno secondo me Uh Mangiare le verdure Cavolo Hai raccolto delle colture che hai coltivato con i tuoi compagni Immaginavo Pomodoro salutare E pomodoro salutare Grande Ottimo Il pomodoro grande 150 Ottimo Il pasto dell'atleta Aumenta l'attacco Ok Praticamente fa la stessa cosa di questi Solo che ce l'ha regalato il senpai Il cibo mega dietetico 50 A un alleato Che vabbè sapevamo che era un po' una cagata E il tè 200 HP Buono Inizialmente pensavo che al di fuori della scuola Avrei fatto prima la bambina Però purtroppo ci siamo fermati Però vabbè la bambina consiste comunque come confidente giornalieri Quindi se devo fare un'ipotesi Credo che per primo finiremo Miyamoto come confident giornaliero E lui come confident serale Non che abbiamo chissà cosa la sera però Sempre il solito Ah siamo arrivati a un unpass Però meglio di questo non abbiamo da fare Passiamo la serata con lui Che strano ragazzo Il tuo cervello è come una spugna vero? Assorbi tutto quello che ti dico Beh d'altronde sei simpatico Quindi non vedo perché no Guarda purtroppo so che abbiamo un po' Cittato usando Magazzo Izanagi Però vabbè era una buona causa Ah le ragazze Allora non ci ho pensato Perché oggettivamente penso che sarà di storia Ma devo provare a vedere se il tizio lì all'escapade C'ha qualche sito nuovo Ehi hai sentito di tutta quella gente trovata svenuta di recente Sembra che fossero quasi tutte coppie Cioè come se avessero tentato un doppio suicidio o roba del genere In effetti è romantico dormire per sempre con la persona che ami Come Romeo e Giulietta Ma anche no Non è per niente romantico Che cazzo di problema c'hai in testa tu cretina Beh mancano dieci giorni quindi Ok Miyamoto non va avanti Il che vuol dire Chiro e Yuko Oh Le mie due piccole waifu di codesto gioco Onesto credo che Per quanto si Però Sono più in linea con Personaggi al di fuori del gruppo Questo giro Se devo dire la mia Credo che in persona 3 Sceglierò o lei o lei Ovviamente il gioco ti dà la possibilità di fare lo stronzo e avere più ragazze Ma io faccio il bravo ragazzo e ne scelgo una Ovviamente per almeno la prima run Persona 4 Ci è tutta la vita Onesto Se proprio avessi dovuto fare una seconda run Naoto Ma ci è Qui Persona 5 invece Ce n'è di scelta Però Io Rimango fedele Alla mia piccola futaba Allora Yuko Ma ciao Come stai? Quei ragazzi Mi infastidiscono parecchio Per questa roba dell'allenamento Nessuno si allena in pista oggi Quindi è aperta Magari dovrei buttarmi Buttarti in che senso? Vabbè Noi andiamo Ottimo Allora vado a chiedere il permesso al professore Se posso usare la pista Ci vediamo sul campo Contoso di te coach Ti aspetto allora Molto brava Complimenti Oh, veramente? Molto 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 Ma a parte che lei sta correndo con le infradito Cioè deve essere una roba di uno scomodo Vabbè che sono bambini però Deve essere di uno scomodo come cosa Ma meno male Cioè sai che perdita di tempo se no Beh con una persona che ti insegna tutto si migliora Ti va di farne qualcuno? Beh è perché tu sei brava a insegnare Mi pare ovvio Con un po' di impegno tutto si migliora Che è successo? Oni però non è diavolo E... come si chiama? Oni è demone Non è diavolo Quello è vero Io ho un amico che c'ha il ginocchio infiammato ora Ma cos'è Miyamoto 2 questo? Tesoro È successo solo ieri quello che è successo Dovreste aver imparato qualcosina Eh... No... No... Quello è sbagliato Io mi fido del tuo giudizio No... No... È vero Non è vero Non è vero Non è vero Non è vero Bene! Bene? Ora io sono il coach! Quindi, non nemmeno di rinforzare! Questo ragazzo è un'altra cosa che ci vuole, e se ti prendi la rinforzamento! Per esempio, se ti prendi la rinforzamento, ti prendi la rinforzamento, e se ti prendi la rinforzamento, e quindi cosa è? La rinforzamento? Oh, il coach... Sì! Hai detto qualcosa? Cosa ti ha detto? Allora! L'azienda che si tratta è in giro! Sì! Quali sono le animazioni che si tratta? Ma... Non c'è qualcosa di male! C'è qualcosa di un giro? Sì! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Però avresti sbagliato Sono sicuro Che te saresti resa conto Sono felice di essere qui allora Sento che il mio rapporto si è rafforzato Fantastico Livello 5 Cavolo siamo più indietro di quanto mi aspettassi Devo mostrargli quanto sono veloce Beh non vedo perché no Mi sono allenato con i bambini fino al calare del sole Dovrei tornare al dormitorio Ma in una situazione del genere dovresti mostrare la tua vera potenza O dovresti adeguarti alla loro? Qual è il modo migliore? Oh ciao bentornato Vuoi vedere qualche film sul combattimento? Onestamente sono curioso di vedere cosa direbbe Junpei sulle piante Però Tanaka o Mutatsu? Chi dei due è disponibile Tanaka e Mutatsu Entrambi Io resto fedele al mio amico Wow dai con l'alcol Ne voglio ancora Mutatsu sta bevendo da solo E aggiungo fin troppo D'accordo stiamo con lui Forse sta esagerando oggi Ce n'è messo il tempo ad arrivare Mi sa che oggi Clu 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 Mutatsu puzza di alcol più del solito Deve aver bevuto molto Beh Una bottiglia è rovesciata Mi chiedo se vede noi O se pensa che siamo qualcun altro Comunque Beh mio padre è morto Papà Papà Mi chiedevi a me Mi chiedevi a me Papà Stavo studiando, visto che penso che lo conosca, penso sia una bugia. D'accordo, con gli amici. Ehi, sono pur sempre un maschio, eh? Ebbene, sono un maschio, eh? Ebbene, sono un figlio, eh? Oh, finalmente ci hai riconosciuto, eh? Eh, buongiorno, eh? Sembra che Mutatsu fosse preoccupato per me. Sento di comprendere Mutatsu un po' meglio. Fantastico. Livello 8. Ci mancano due livelli, dai che è il primo Confident che finiamo. Eh, purtroppo quello... Parli della tua famiglia, immagino. Eh, beh. Beh, non è tanto tempo, no? Sembra storie già sentite più e più volte, queste. Eh beh, scappi dai problemi, eh? Fumare, ok, bere così tanto, eh. Mentre tu, purtroppo, a quanto pare, no. C'è sempre il modo di provarci, no? Ti accompagno fuori, allora. Ho lasciato il locale con Mutatsu. Oggi non si va a scuola, manca poco programma. Facciamo il culo a qualche demone. Io lo farei volentieri a te, Maya. Ma comunque, sono dettagli quelli. D'accordo, recuperiamo un po' di tempo con Maya. Per fortuna i rapporti della domenica sono abbastanza veloci. Chatto un po' con Maya, il nostro legame sta crescendo. Facile, facile. Risolto già tutto. Chi sarà disponibile questa sera? C'è nessuno? Sono l'unico rimasto in casa la domenica sera. Vediamo se è arrivato qualche cosa di nuovo qui nel negozio di computer. E direi di no. Vediamo se c'è qualche piatto nuovo. E direi di no. Vediamo se c'è qualche evento. Ok, Mutatsu c'è. E vediamo se il tizio qua c'ha qualche cosa di nuovo. E io penso di no. Oh, invece sì. Sul sito della vendetta. Cacchio sì, ci avevo ragione. Questo lo compriamo. Se abbiamo una sera libera in cui non c'è Mutatsu, o comunque vogliamo saltarlo, io un'occhiata ce la darei. Però per adesso... Oh, sei tu. Senti, hai un attimo per parlare? Certo, certo. Beh, ormai siamo quasi alla fine del suo confidant. Voglio vedere come finisce. Va bene, mettiti comodo. Ah, non ti preoccupare. Vai tranquillo. Tutte le volte di cui hai bisogno. Effettivamente, il dettaglio c'è. Non c'è neanche la bottiglia. L'altra volta ce n'era una addirittura rovesciata. Ok. Beh sì, effettivamente Un po' brutto da dire E pause? Non ne puoi prendere? Eh, chi lo gestisce il tempio poi? Ah, beh La presa sul personale, nel senso sono io che decido di non farlo Complimenti Eh, esatto Sei una brava persona, fatelo dire Ti capisco Eh, vabbè Beh, quello è normale, purtroppo Cosa che purtroppo succedono quando bevi Quindi, è ora di andare in pensione? Già, purtroppo Bisogna capirlo, quello è vero Ok Aspetta, non ho capito la scusa, nel senso Ah, lui vorrebbe tornare con sua moglie a vivere nel tempio Però dovrebbe fingere di gestirlo quando in realtà ormai ha smesso Ok Beh, non so quanto sia etico però Non mi interessa Di che parla? Di sua moglie, dai, l'ho capito io, che cazzo Ah, lascia perdere, sei troppo giovane Beh, dovresti dirgli come stanno le cose, secondo me Secondo me non dovresti girare Allora, quello purtroppo, sì Ti serve scoprire dove sono Però non dovresti girarci attorno Nel senso, non usare scuse, digli la verità e basta Magari ti dirà sì, magari ti dirà no Però almeno avrei detto la verità Esatto, questo è un comportamento giusto Niente scuse A me va benissimo Guarda, sono contento di aver parlato con te Dai, vediamoci almeno un'ultima volta, fra, dai Nonostante le dure parole, l'ho l'impressione che mancherò a Mutatsu Eh beh Nonostante il tutto ti dico Per essere forse il primo Confident che finiamo Perché oggettivamente potrebbe passare un po' di tempo tra questo e la fine Magari no, magari è domani, chi lo sa È stato bello parlare con lui Forse fino ad ora è stato uno dei Confident migliori Eh beh Ottimo L'accompagno, andiamo a farci due passi Su Ho lasciato il locale con Mutatsu Guarda, se domani è già disponibile Io andrei e completerei il Confident e vediamo già chi è la prima persona di rango massimo Che cacchio Buongiorno Sì Secondo me Badadia So che vi aspettavate la prof Terauci Ma ha avuto un problema Quindi la sostituirò io Oggi parleremo un po' della magia naturale Non è molto diversa dal paganesimo In cui abbiamo già discusso La magia naturale ovviamente è un tipo di magia Che prende il proprio potere della natura La forma più popolare è probabilmente l'erboristeria Anche gli ingantesi basati sul calendario Sono una forma di magia naturale Coinvolgendo le stagioni Alcuni di voi potrebbero conoscere la rapdomanzia Che usa pendoni e bastoni per trovare cose sotto terra Anche questa è una forma di magia naturale Inizialmente veniva usata per trovare fonti d'acqua Direi che questi esempi potrebbero bastare Passiamo al pensiero della magia naturale Prima di tutto è necessario riconoscersi come parte della natura ed accettarne il potere In altre parole considerate l'umanità come un atto microscopico della cosmologia dell'universo Questo pensiero si basa sul concetto dei quattro elementi classici Gli antichi maghi credevano che gli oggetti diversi con un elemento in comune avrebbero reagito reciprocamente Fecero moltissimi esperimenti per dimostrare le loro ipotesi sulla natura Mi aspettavo già che apparisse Oh sonno Mi state ascoltando? Lo spero Ecco una domandina per la misura della vostra attenzione Se sbagliate riceverete un cattivo presagio Adada io adadia Vediamo oggi a chi tocca Star se è stato scelto tu Che novità Ha le forme di magia naturale si usa per trovare le fonti d'acqua La ravdomanzia Risposta esatta Ottima lavoro Quanto al presagio Nessuna nuova buona notizia Tornando all'argomento La preghiera è considerata parte integrante di tante forme di magia naturale Una caratteristica delle preghiere della magia naturale È che molti di esse lodano una dea della terra Ciò si collega al concetto della magia naturale Come metodo di invocare la benedizione della natura Con il passare del tempo la magia naturale si è sviluppata O fatto annervanti Fino a diventare scienza naturale Ma in questa transizione si è perso un elemento chiave La nozione di poter controllare il tempo La magia naturale vieta l'uso di incantesimi che vanno contro il normale flusso del tempo I suoi praticanti credono che la magia non debba sfidare la natura E che anche oggi sono attenti a seguirne le leggi Ho risposto correttamente Fantastico Beh era facile dai questa Questa era abbastanza facile Le sue lezioni sono interessanti ma abbastanza noiose Allora carretto Bambina Lavoro E qualcosa per te Non penso ci sia nulla di nuovo Però andiamo a vedere Quindi abbiamo ancora un paio di giorni Io finirei questa settimana Dato che il 6 è lunedì prossimo Se ci andiamo ci andiamo Probabilmente venerdì Perché così sabato possiamo andare a prenderci la medicina A aumentare le statistiche Dunque allenamento è questione di lavoro Vabbè Onestamente Finiamo anche lui Penso di non potermi avvicinare Mannaggia Potrei avvicinarmi D'accordo Ho bisogno di un imperatore Odaghiri sono qui per lavorare con voi Già casino neanche entrati Dai sentiamo Ebbè quello è vero Ma fanculo Beh facendo così però non migliori la situazione Però dobbiamo assecondarlo Quindi Che schifo sta gente Maronna mia Schifo Eh lo so lo so Senti chi parla Mamma mia Sai che tu sei un elemento Da Da meme Della serie Siamo arrivati al boss finale Vedi Odaghiri In forma angelica Tutti voi Vedrete La luce Va bene Odaghiri Ma se la pensi così Allora non avrei mai un rapporto con nessuno Non lo so Un po' Un po' di boluccio Il suo confident Forse Mal giudico Quello del mago Ma anche qui Vabbè Qua ha già un impatto diverso Però Siamo già al 5 E' successo niente Niente interessante E beh Grazie Vuota la sala Voglio dire Grazie al cazzo Va bene Ciao Oh Ah Yuka Yuka ricacchio Cazzo stai combinando Anche tu però Che problemi hai Testa di cazzo No Si scherza Ovviamente No dai Ti prego Vuole spiare La senpai Ah ok Dai Ok Beh anche perchè Dieci anni fa Cosa avevi Dieci anni Cinque Ok Ok ha senso questo Ma Oggettivamente Forse lei Non lo può sapere Ma è ovvio Che le ombre Ci sono sempre state E sempre ci saranno Credo che Yukari Si focalizzi Sul concetto Sbagliato Ovviamente Sta facendo La cosa giusta Ma Focalizzandosi Sul pensiero Sbagliato Non lo so Bentornato Ah tra l'altro Domani possiamo lasciare Di nuovo Il takoyaki Nel frigo Ah tra l'altro Oggi è il mio Compleanno Non oggi nella realtà Oggi nel gioco Oh che cosa triste Nessuno lo vuole festeggiare Con me Sfrutterei la serata Ma vorrei vedere Il sito internet Nota sul sito Della vendetta Vediamo un po' Dove porta questo indirizzo Il sito di vendetta Deve essere il sito Di cui si vocifera Ci sono richieste Di ogni tipo Censurato So che parla sempre male Di me Alle mie spalle Che odio Voglio vendicarmi Wow Sembrano i commenti Brutti Che c'erano Sul sito dei Ovviamente Ladri Fantasma Però è ovvio Che questo viene Prima di quello I posti pieni di odio Che chiedo vendetta Sono tantissimi Dover assistere A questo orribile Aspetto dell'umanità Ha rafforzato La mia determinazione Ah Wow Il mio coraggio Quindi Beh Non è stato Di gran che aiuto Però Si sta facendo tardi Vabbè Guarda È stato comunque Utile Però mi aspettavo Qualcosa di Meglio Qualche informazione Magari Sai com'è Caro Star Sun E yo Beh yo A te fra Ma io vado Con una delle mie waifu Sento che presto Mi avvicinerò a Ciro D'accordo Allora Come sta andando Alla situazione Salve Star Sun Sei libero Più tardi Speravo potessimo Studiare insieme Però Volevo anche Parlarti un secondo D'accordo Tutto quello che Hai bisogno Di dirmi Grazie al cielo Speravo che Dicessi di sì Chissà Se c'è ancora Spazio in libreria Vado a prendere Dei posti Vai pure Ok Ok Ebbè Ovvio Però dai Che cazzo Come fai a pensare Male di te Ovvio Cioè immagina O che per la personalità Che c'è Avesse paura Ma questo non vuol dire nulla Cioè Vai vai Ti aspetto Ora sicuro 3 2 1 Qualcuno la ferma E l'accusa Ecco Wow Certo certo Proprio da lei Guarda E quindi Che cazzo vuol dire Che schifo Ma sta Allora In sto gioco La gente che Sparla In tutti i confine C'è sempre qualcuno Che parla alle spalle Madonna mia Che Che antipatia Sta gente Mamma mia Ovvio che è tutto Malinteso Sono forse Il suo futuro ragazzo E anche se non lo sembro Questo è per voi Eh esatto Brava bibliotecaria Sbattile fuori Ste stronze Sì anche perché Il vostro compito Era fare le comparse Dire questa frase E non vedervi mai più Ho sentito tutto Che stronze Tu Ciro Allora Allora Se si dovesse scoprire Che è stata lei E io spero Al cento per cento Non sia così E ovviamente Non sarà così Ti giuro Mi si spezzerebbe Completamente Questo Confidant Però Dal cuore mio Io so Che tu sei innocente Come potrei dirti il contrario D'altronde E se ne prende il viso Non sei da sola Puoi fare affidamento su di me Quando vuoi No 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 Non c'è bisogno Basta che chiedi aiuto E io sarò qui Piccolina Dai Siamo al rango numero 8 Anche questo Quasi alla fine Nonostante tutto Il suo confidante È interessante Un po' Troppo veloce però La giornata scolastica È quasi finita Ciao Ho salutato Ciro E sono tornato al dormitorio Ben tornato Ormai proprio Zero totale Le interazioni Allora Prima di tutto Mettiamo giù Il tagliachi nel frigo Nella speranza Che non ce lo rubino Andiamo a prenderlo domani Tanto domani Sarà su Sicuramente fregato Di sicuro Guarda Ok Molto probabilmente C'è Mutatsu Vorrei uscire un po' Con Fuka A fare le piante Però Siamo alla fine Del nostro primissimo Confidant C'è Tanaka Facciamo che prima Finiamo Mutatsu Mutatsu An edizione Non c'è Beh iniziare Tanaka Potrebbe essere una scelta Visto che comunque Mutatsu Adesso lo finiamo Ed altronde Tanaka L'abbiamo visto Veramente pochissime volte E spero che lo stronzo Non ci chiede altri soldi Oh Eccoti qui Purtroppo È stato un altro imprevisto Alcuni investitori Si sono tirati indietro Ma visto che era solo di meno Tutti gli altri Guadagneranno di più Allora che ti dici Di investire ancora un po' Solo altri 10.000 yen Dovrebbero bastare Ci stai? Adesso Vi mostro un tutorial Per avere a che fare Con questi scammoni Voi per assicurarvi Che loro Dicano la verità Gli prendete dolcemente La mano Guardate la linea Che c'è nel mezzo Prendete un ago E glielo ficcate Dritto nella mano Così Potrete fare un patto di sangue Di solito Queste interazioni Così Ti chiedono tre volte Queste cose Speriamo che siano finiti I soldi Che ci ha chiesto Stavolta Ho dato all'uomo Altri 10.000 yen Mio piccolo Sciocco apprendista Non hai ancora capito Di essere stato ingannato Tutto ciò che ho detto Era chiaramente sospetto E che cazzo Non lo so Secondo te Tanaka L'ignoranza dovrebbe essere Un crimine Certo Delle qualità positive Ma se resti così ingenuo Si approfitteranno subito di te Affidati a me Ti mostrerò Come essere un vincente Dovrei ascoltarlo Finalmente cazzo Andiamo Allora Tanaka A me sorprende Che nonostante tutto Non se ne sia reso conto Quindi Ha un aspetto familiare Cazzo Manco avessero oscurato il volto Per non fartelo vedere in tv Quindi Cioè Dovresti sapere Chi è Guarda Il nostro personaggio È talmente un genio Ma certo Ovvio Tanaka adesso Ecco appunto L'uomo mi ha dato un biglietto Da visita C'è scritto Tanaka presidente E ceo Si e ho comprato Della roba dal suo programma Certo Certo Allora Allora Con quello che Ipotizzo Succeda poi Tra persona 4 e 5 Che lui finisce a fare le robe Nel mercato nero Non credo che sia andato Benissimo Il tuo futuro Quindi Alla prossima Tanaka Firma di Tanaka Wow Wow Che brava persona Tanaka Sembra che stia parlando di me Ignoriamolo Ecco Voleva che noi vi gli parlassimo Invece Madonna mia Chi io Ma va Ti stavo ignorando Certo Tanaka Si 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 Aha Certo Aha Si 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 Guarda Si Come ti pare Kawaii Ku Naai Kawaii 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 Desune Eeeh Toma Vabbè Porca troia Credo di aver capito Cosa sia successo Nella testa di Tanaka Quindi Non mi interessa Tanto la mia vita Giungere a termine Tra non molto Quindi D'accordo D'accordo Certo Certo Guarda Croce sul cuore Tutto qui Sembra Potrebbe essere interessato Interessato a me Ho conosciuto Tanaka Produttore di un programma Televendite Oh no Io spero che noi gli abbiamo dato anche il numero Perché non voglio mai più sentire Guarda Quanto era ovvio che lui fosse il diavolo Madonna mia Eeeh lo so lo so Quando creerai le persone dell'arcana del diavolo Chissà chi è la persona massima del diavolo Ah beh Oggettivamente potrebbe essere Satana Aspetta Quindi se questo gioco ovviamente viene prima di persona 4 Non so se Elel era di persona 4 Come persona O già c'era nei precedenti Però se mantiene lo stesso filone Che anche il diavolo ci dà sempre Satana Allora Elel potrebbe essere la persona della stella Speriamo Elel is good Speriamo Purtroppo Allora Facciamolo finire un attimo Purtroppo avanzai con i confident in questo gioco Non ti dà premi Però per esempio in un persona 5 Magari passare il tempo con lui ti aumenta il fascino Anche di poco O ti fa ottenere sconti nel programma Sarebbe stata una roba interessante Hanno mantenuto il filone originale Probabilmente nel gioco di prima Quindi va bene così Vabbè ho salutato il presidente Tanaka Ho deciso di tornare al dormitorio Ciao Tanaka Uh Altro giro di vendetta Beh se a sto giro scompare ancora qualcuno Meglio ancora Ah no invece Ciao Faros Come va Che sta per arrivare un'altra ombra gigante Esatto Tra una settimana Già Io mi chiedo Se guardando le telecamere I nostri compagni Vedono che ci alziamo solamente Visto che nessuno ha visto il ragazzo È una roba nostra Della serie Wow Si alza nel sonno e poi si addormenta Chissà che succede Sì E avanzeremo il nostro confident Ciao Faros Buongiorno La prossima luna piena è quasi giunta Ti senti pronto? Hai voglia? Bene Conto su di te Stando al ciclo Dovrebbe cadere il 7 giugno a mezzanotte Cioè tra 6 giorni Gli incidenti stanno aumentando Man mano che ci avviciniamo alla luna piena Per cui resta di guardia Certo Allora Dicevamo Caro Phoenix Chan E Ila Abbiamo quindi 5 giorni per fare queste missioni Ma ovviamente dobbiamo farle prima della fine Il che vuol dire farle almeno 4 giorni prima Anzi Dovremmo fare anche addirittura più attenzione In teoria dovremmo forse andare O stasera o domani addirittura Guarda Facciamola così Se stasera non c'è niente da fare Andiamo già stasera Se stasera non c'è nulla di importante Quindi niente Mutatsu Tanaka Vabbè l'abbiamo appena iniziato Quindi può aspettare Io entrerei Ma giusto solo per sicurezza Metti che venerdì Sabato e domenica Il gioco va avanti Per la trama da solo Senza che io possa fare nulla Meglio stare un attimo Sull'attenti E ti dirò Facciamo anche un salvataggio Dunque Yuko Come butta Coach Star Lol È di nuovo ora di dedicarsi ai bambini Ne hai tempo? Chiedo il permesso di usare la pista di atletica Fammi sapere ok? Intendi io e te farne qualcuno? Oh Star-kun Oggi si è impegnato Stavo pensando di allenare un altro po' con i ragazzi Ci tengono veramente tanto Allora andiamo ad allenarli Passiamo il tempo con la nostra waifu Ottimo Grazie Ho fatto qualche ricerca per conto mio Facciamoli allenare come si deve Però cacchio Siamo quasi alla fine di Ciro noi E beh Tra poco anche ci sono le vacanze estive Quindi allenatevi piccoli stronzi Non so se durante le vacanze estive Le vediamo le persone della scuola Al di fuori della scuola Però cavolo Metti che rimaniamo al numero 9 con Ciro E ci manca proprio l'ultimo pezzo Per concludere la sua storia E dobbiamo aspettare tutte le vacanze estive Prima di rivederla Ya Hoi Mostrate un po' di grinta bimbi Gatsu Leggete Berserk bambini I bambini sono tornati a casa dopo l'allenamento Eh chissà se vincono Ah wow Eh al massimo Dei recolpa ai bambini dai Che sei veramente bella Loro quanto c'hanno Sette Otto anni Finchè credono in loro Possono farcela Sono piccoli Possono farcela Hanno meno massa da spostare Credeteci bambini Ce la potete fare È vero E tu sei stata bravissima Con quelle bellissime calze Madonna Perché è la tua prima volta Che fai da coach Ovviamente sei preoccupata Sento che il nostro rapporto Si è rafforzato Meno male Ho un po' da ridire Su alcuni confident Sono Molto sbrigativi Belle storie Ma molto veloci Molto rapide Duh Ma si dai Sei una ragazza È una bella calligrafia Duh Ma tanto non lo puoi sapere Quindi Io e Yuko Siamo tornati a casa assieme Mano nelle mano Non credo Bentornato Ecco appunto Hai sentito La prossima operazione Sarà il 7 luglio Vuol dire che ci sarà Uno scontro speciale Della festa delle stelle Solite festività Loro probabilmente Allora 3 2 1 Se lo sarà mangiato Il pres L'oggetto Takoyaki Messo qui Si è raffreddato abbastanza Fantastico Però Ammetto che l'uovo Non era male L'ovetto che ci ha regalato Il pres Non era male come oggetto Sai Ma spazio per me nel frigo Non esiste Sta casa Ti prego Fa che ci sia Mutatsu Voglio completare Il suo confident No beh forse Allora Forse non lo vedremo Per davvero Per un po' Perché magari Davvero deve andare avanti Con la sua storia Che sfiga Sai che allora Stasera Si entra dentro Dentro il tartaro Si E già che siamo qui Non sprechiamo l'occasione E stavolta Facciamo Maledettamente Attenzione Mi faccio Una divinazione Della rarità Maledizione Che poi Mi da sulle palle Che tutti gli altri Obiettivi Si completano in automatico Questo no Dovevo segnarlo E poi farlo Aumenterà la probabilità Delle ombre rare E vai Vediamo se anche senza andarci Ce la conta Non credo Infatti Stasera si va nel tartaro Va bene Ci vediamo al solito posto Allora Informerò gli altri Ci vediamo lì Ma dai Ma io stavo mangiando I miei noodles Che cacchio Ed eccoci qua Ora che ci penso Elisabeth ha parlato Di ospiti vaganti Del tartaro Persone scomparse A volte potresti imbatterti Nelle persone scomparse Che vagano nel tartaro Le persone scomparse Non possono essere salvate Dopo la luna piena Quindi è meglio Liberarle appena possibile Tutte quelle che vedi Che incontri Il giorno dopo un salvataggio Puoi ricevere una ricompensa Presso la stazione di poliziata Ricordati di passarci Puoi chiedere ad Elisabeth La posizione delle persone scomparse Chiedi le consiglio Regolarmente Per salvare le vittime Disperse nel tartaro Elisabetta Grazie dei frammenti Percepisco qualcuno Sembra esserci Una persona umana Nel tartaro Tra il 48 e il 53 Dovresti esplorare la torre E trovare chiunque Si sia perso Il prima possibile Solo quindi Dal 48 al 53 Una sola O tutte quante Vabbè Noi andiamo Oggi ho ricevuto Una divinazione della rarità Speriamo che ne appaiano C'è qualcuno Nelle vicinanze Deve essere una delle persone scomparse Finite qui Rilevo un segnale Dal piano 50 Presto Al cinquantesimo D'accordo Vabbè tanto Io poi passo un po' di tempo qui Comunque a livellare Giusto Fammi vedere una cosa Quante chiavi abbiamo 33 frammenti Perfetto Perfetto Ottimo E giusto Già che ci siamo Eccola qui La mano dorata Perfetto Ora che ci penso L'indovina ha detto Affrontare un avversario dorato Grazie Giusto Giusto C'era una cosa che volevo fare E visto che affrontiamo Una mano d'oro Direi che è L'avversario migliore Ho scelto una delle mie musiche Preferite di Persona 5 Merda No 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 Ok ok Sei spaventata Meno male Fermoli Presa E c'è solo lei Quanto è bella Sta canzone Maledizione Ammazzatela Quanto le odio Ste mani Quanto mi stanno Sulle palle Bella Mamma mia Quanto è bella Sta canzone Quanti ricordi Che mi porta alla mente Sta canzone Don't sleep through Dreams They can be true Non scappare Non ti azzardare Non te lo permetto Perfetto Peccato Peccato Perché era proprio bella Questa E nonostante sia uscita Questa Prendiamoci più punti Esperienza Beh buono dai Grava Fuka Ottimo Sono contento Che le ombre scappino Perché vuol dire Che siamo Abbastanza Di alto livello Uh al Kogan Ciao Madonna mia Siamo veramente Messi bene Allora Anche questa È una delle mie Preferite Di Persona 4 Quanto è bella Mamma mia Sta canzone Porca miseria Vai Assaltateli Con questa Bellissima Cazzone Ottimo Bravissimi Oh Eccola qui La persona Beh spero che non ci sia nulla di strano Rilevo una persona Per favore Salvatela subito Andiamo Andiamo Ero certa che ci fosse qualcuno Controllate ovunque Ma hai appena detto che è ricerta 100% Tutto il resto Scusami Trova le persone scomparse Quindi ce ne può essere anche più di una Nello stesso piano O forse Ogni volta che ne troviamo una Dobbiamo tornare giù Digliola D'Elisabeth E poi tornare su Ok Eccola qui la persona scomparsa Deve essere una delle persone scomparse Dobbiamo prestare immediatamente soccorso Torna all'ingresso il prima possibile Riportiamola all'entrata Ricevuto Ti prego Ti aspetto all'ingresso Ok Molto probabilmente Esatto L'eccellenza Extracuricolare Bentornato Sei riuscito a salvare una persona scomparsa Per adesso la faremo restare qui La riporteremo indietro sana e salva al momento giusto Elisabeth Persone scomparse Percepisco qualcuno Tra il 55 e il 59 D'accordo Qual è stato il risultato della divinazione? Capisco Quindi le divinazioni si avverano Chi sarà mai questo divinatore? Spero un giorno di incontrarlo Beh non è lontano dalla stanza quindi Incenso della velocità Vabbè Il farmaco potente Dobbiamo trovarlo E anche la bevanda energetica È la primissima missione La bevanda energetica dovrebbe essere qualcosa di semplice Eppure dove cacchio si trova? La troveremo 55 e 59 Oh finalmente Il matto Ottimo Eccola qui la persona scomparsa Altra carta maggiore E altra persona scomparsa Chiedi di accompagnare Quindi possiamo eventualmente mandare qualcuno? No vabbè torniamo Tanto sai che mi frega Altra persona scomparsa Dove la troviamo? Ti chiedo umilmente di accompagnarmi di nuovo in un posto Stavolta vorrei esplorare una certa zona nota di Watodai Se hai tempo viene a prendermi finché c'è il sole Va bene La prossima 61-68 D'accordo ti ringrazio E ovviamente una volta finito tutto questo Io mi faccio tutto il giro dei primi piani Mi faccio l'impeto arcano Sfruttiamo fino alla fine La divinazione per avere tutte le mani dorate La zona è nostra vuoi mandare qualcuno? Vai pure Oh la madonna quanta roba Sigma Drive Ehm mano d'oro Ah studente ingame Oh la madonna ma A parte che siamo bene o male ancora all'inizio E avere una roba del genere guarda che Certo subire meno colpi critici Ok Magari agli altri è più utile qualcosa che gli blocca i danni O comunque la possibilità di evitare la loro debolezza Però mica male Magari per gli elementi più fragili una roba del genere È la salvezza Non abbiamo ancora provato la nostra teurgia Fratelli Jack Andate pure Vi lascio il posto Ma sentita questa Sì 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 Era una roba cazzata Cadrà la mano? Porca troia Che danno madonna Madonna mia Cioè Come teurgia iniziale Mica male Ottimo Scusami un secondo Vorrei provare una di queste due Danni maggiori se vicini alla luna piena Controlliamo Madonna mia Pure fatto il critico Beh oddio Non ha fatto moltissimo Ma mica male Giusto anche per curiosità Vediamo invece l'animazione di Zan Hey Purtroppo siamo lontani dalla luna nuova però Molto carina Molto carina E nonostante tutto Abbiamo fatto un bel po' di danno Ottimo Così non devo neanche tornare ai piani inferiori E ci guadagniamo lo stesso Grazie E Junpei sale di livello Bravo ragazzo E abbiamo trovato la persona scomparsa E con questo missione compiuta ragazzi Finalmente Così possiamo pensare ad allenarci Sembra che abbiamo salvato tutti quelli che sono finiti per sbagliare il tartaro Fantastico Grazie a tutti